Come gli uomini che questa sera hanno contribuito alla vittoria del Napoli, Alex Meret nel primo tempo con le sue parate, poi nel secondo tempo insomma è calato il Verona e grandi interventi non ce ne sono stati e come Milik che con i suoi due gol ha portato i tre punti a Napoli. Franco, allora, ne è valsa la pena stavolta questo viaggetto, questo viaggetto Regno Unito, Napoli, Napoli Regno Unito. Mi piace fare sempre la pena, a prescindere, però ho visto, il Napoli ha pubblicato una foto di Milik stamattina con un sorriso un po' birichino, ho fatto un tweet, ho detto quel sorriso però e ho messo due pallone là, eccolo qua, ecco si è andata. Allora, Milik, Milik, ho ritrovato Milik. Io avevo previsto la doppietta, la doppietta è stata ragazzi, Milik è l'attaccante giusto per il Napoli, bisogna crederci e aspettare i giocatori e l'ha dimostrato stasera. E anche un grande Meret nel primo tempo. Io l'ho detto in tempi, non sospetti, un giocatore, un attacco, un giocatore che tocca tre palloni, fa due gol e un grande giocatore. L'ho detto in tempi, Meret assoluta sicurezza. E' un bel Napoli. Allora, che ha fatto questo Napoli? Si è ripreso o non si è ripreso? Troppi entusiasti, mi è attorno a Milik, signori miei, ha fatto due gol contro il Verona, andiamo piano. E' due gol contro il Verona, che per amore della verità, il Verona è la seconda difesa del campionato italiano. E' un buon giocatore, ma non ci esaltiamo, noi siamo abituati ad altro, per vincere qualcosa. Allora, eccoci qua. Allora, Carlo, primo tempo onestamente inguardabile. Meret straordinario. Meret straordinario, come l'ho detto altre volte abbiamo un grandissimo portiere, su questo probabilmente ci vediamo la vecchia. Con lui e con Di Lorenzo, che sei un altro grandissimo giocatore. Però, io devo dire, delle tre partite che abbiamo fatto qua, Cagliari, Brescia e Verona, questa è la partita in cui sono il più insulti fatto, nonostante che abbiamo vinto 2-0. Noi questo lo dobbiamo dire. Abbiamo sempre la sensazione che quando scendono le squadre sono pericolose. E questa è una brutta sensazione. Onestamente era parecchio che non la provavamo, e forse qualcosa da mettere a posto ci stavano. La vittoria è bella, i tre punti sono bella, la doppietta di Milik è bella, però dobbiamo vedere che cosa dobbiamo fare, perché onestamente il primo tempo abbiamo sofferto troppo per una squadra come il Verona. Te la posso dire una cosa, un appello al presidente, per fare un contratto a Meret di 15 anni, minima. 15 anni più uno. C'è il presidente, visto l'età di Meret, sarà a lungo il portiere del Nato. Eh, vorrei spendere, Lorente, che giocatore, che giocatore. Basta poco per entrare e capire, insomma. La vismo tecnicamente, sa mantenere, fa salire ed è intelligentissimo. Perfetto, ciao Franco, buon viaggio, buon viaggio. E allora, altri tifosi, ragazzi. Allora, tu sei un grandissimo... Allora, Meret e Milik, doppia M, sono abbastanza... Meravigliosi, Meret è stato spettacolare in quell'intervento, quella serie di interventi, e poi Milik finalmente si è tolto un po' di soddisfazione. Ci siamo ripresi definitivamente. Adesso andiamo con il Salzburgo e andiamo a vincere. Con la testa giusta. Bravo, perché all'inizio eravamo partiti un bene, eh. Beh, assolutamente. Un po' in confusione. Un po' in confusione, è vero, è vero. Ciao, ciao. Allora, ragazzi, soddisfatti, abbiamo fatto pure il savore, è l'importante che... Meret ha parato, Milik ha segnato. Meret è il nuovo Zoffo, è il nuovo Zoffo. Milik finalmente, oltre che nazionale, pure con l'anno. Finalmente fa con l'attività. Speriamo che continuino così. Secondo voi è l'inizio di una ripresa anche mentale del Lamo? Io penso di sì, io penso di sì. Io penso di sì, perché la scorsa volta abbiamo detto assieme che c'erano molte persone fuori forma, ma molti... eh, mo' diciamo che l'organico c'è. E a Milik serve la fiducia. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, carlo. Sono disfatti? Benissimo. Benissimo. E arrivo da Cuneo. Da Cuneo? Sì. Con il cuore azzurro. Con il cuore azzurro, azzurrissimo. Guarda qua. E come nasce questa passione? Eh, da piccolo, vero? Da piccolo? Ma ci sono parenti? No, no, nessuno. Io parto al mattino e domattina riparto. Complimentissimo. Grazie. Una storia bellissima. Allora, con il cuore azzurro. Con il cuore azzurro. L'importante è che abbiamo... L'importante è il risultato, di vincere. Poi ma fanno... Giusto? Si riprendono. Va bene. Grazie. Allora, ti restituisco la linea, Lucio. Da dove noi ci trasferiamo questa sera in sala stampa, proprio per poter un po' dialogare insieme, quindi perché dalla sala stampa ci è concesso fare i collegamenti, in attesa poi di sentire Iuric, di sentire Carlo Ancelotti, e quindi stasera avremo modo anche di convogliere un po' per analizzare quello che è stato l'incontro di stasera contro il Verona. Per il momento è tutto. A te la linea. Che agiva, diciamo, sulla corsia di sinistra, ha fatto molto bene. Iunes, credo che ha avuto... Ha fatto un po' fatica nella prima parte, la seconda l'ha fatta molto meglio, dopo ha preso un colpo, è uscito perché non si sentiva molto bene. Comunque il suo apporto, soprattutto nella seconda parte, come quello di Insigne, è cresciuto molto, tant'è che la squadra ci è resa molto pericolosa nella seconda parte. Prego. Carlo, buonasera. Era la risposta che ti aspettavi dalla squadra e alla seconda domanda, se mi permetti, e se hai chiamato già Ibrahimovic oggi, stasera. No, io mi sono chiamato perché quando ho letto il giornale era l'una di notte a Los Angeles, allora aspetto adesso di chiamarlo, dopo sicuramente faremo un comunicato stampante. Assolutamente. Con una bella festa. Per sentire la risposta. Mi ricordo che quando era Sky Sport 24 vedi l'arrivo suo con l'aereo privato al Milan, mi pare fosse il 2008-2009. Facciamo una cosa del genere. No, ma già ci fa onore il fatto che lui possa avere così belle parole per questa città, per questo ambiente. è perfetto proprio. È come il calcio sui maccheroni, insomma, per dire. Adesso, per il resto, credo che la partita è stata sofferta la prima parte, avevamo ancora, credo, qualche scoria, non eravamo tanto sciolti. La seconda parte, invece, credo che l'abbiamo gestita molto bene. Buonasera, mister. Due domande rapidissime. La prima, Alain Play, Fabian più avanzato da guastatore offensivo. Infatti, da lì che poi nasce anche l'azione del gol con il tocco per Cagliacón. Chiaramente faccio riferimento al primo gol. È questo l'assetto migliore in mediana che in questo momento può riscontrare per il suo Napoli. Seconda, guardando un attimino alle palle inattive, il Verona ha avuto qualche occasione, diciamo, in più di testa, di forse quello di lei che poteva immaginare. qualche palla e qualche contrasto aereo non vinto in area di rigore in più. Sì, questo è vero, abbiamo sofferto, ma era sulle palle inattive per due ragioni. Uno, veloce, calcia molto bene, forse uno dei migliori tiratori che è la Serie A. Secondo loro, di testa, sono forti. Quindi era una cosa che avevamo preventivato. Devo dire che, tutto sommato, la difesa su quelle situazioni lì ha fatto bene. Il fatto di Alain Play, ci sarebbe da spendere, per me Alain è un grandissimo giocatore, il fatto di dire che non può fare il play è riduttivo, perché Alain non è solo un incontrista, come Llorente non è solo un testatore. Insomma, detto questo, a me Alain piace molto in quella posizione lì, ma so benissimo che non ha la qualità che può avere Pirlo, che può avere Zilinski, però a noi ci serve lì. Poi, la costruzione del gioco non dipende solo da un giocatore. Talvolta ci sono giocatori che sono marcati e talvolta il regista diventa il giocatore che è libero sul campo. Succede molto spesso che tante volte abbiamo la superiorità sui difessori. Allora, ecco lì che il difessore diventa in quel momento il regista della squadra. Corriere della sera. Mister, la terza gara in cui non subite gol, non accadeva da metà febbraio. Che valore ha questo dato per la squadra in vista anche dei prossimi impegni? No, è importante, anche se, come ho detto, perché, soprattutto considerato l'inizio, abbiamo trovato molto in fretta la solidità. Questo certamente è legato al fatto che in questa partita la rete ha fatto molto bene la prima parte, poi dopo il resto della squadra è stato compatto, ordinato per tutta la seconda parte. Prendere pochi gol è molto importante anche perché te ne servono meno per vincere le partite. Mister, buonasera. Lei prima ha parlato di costruzione del gioco. Ecco, soprattutto sul primo passaggio in uscita. È quello il segreto? Perché poi quando riuscite ad uscire bene dall'area di rigore l'azione si sviluppa in maniera esemplare. È là che quella può essere un aspetto su cui la squadra può migliorare ancora? Beh, lo stiamo rovando anche se oggi forse è stato da quel punto di vista lì è la partita meno brillante. Abbiamo faticato perché il Verona ha pressato molto alto, era una partita che si è giocata molto sui duelli, uno contro uno e allora abbiamo fatto un po' di più fatica, ma io credo che non dobbiamo prendere i rischi se c'è la possibilità si gioca, altrimenti come ho detto tante volte non ci dobbiamo scandalizzare se qualche volta mettiamo la palla lunga. Per concludere Telenuna, buonasera Carlo, volevo chiederti, hai sempre avuto buone parole per lui, lo hai sempre difeso anche nei momenti difficili, parlo di Milik. Questa sera, doppietta, volevo il tuo parere sulla prestazione in generale e sul ritorno a gollo cosa può significare per Arek? Il vento è cambiato per lui molto velocemente, credo che la chiave è stata di gol che ha fatto con la Polonia, per un attaccante fare gol è molto importante, ha ritrovato fiducia, ottimismo, l'ha recuperato dall'infortunio, perché Milik non è che non ha giocato perché l'allenatore rompirla, non ha giocato perché ne è fortunato. Bene, grazie e buonasera a tutti. Iniziamo. Buonasera mister, Marco Giordano, calciomercato.com Prima parte di gara nella quale c'è un'immagine che è difficilmente indimenticabile, soprattutto per un allenatore immagino, dieci uomini del Verona nella metà campo del Napoli a pressare, è un tipo di atteggiamento che ha avuto la sua squadra anche a Torino, è chiaro che è un tipo di atteggiamento che fa prendere anche qualche rischio ma che allo stesso tempo sta concedendo al Verona di mettersi in grande evidenza. C'è rammarico per il risultato finale alla luce della performance che hanno espresso i suoi ragazzi? Grazie. Un po' sì, penso che abbiamo fatto come prestazione un'ottima prestazione, penso che quando non concretizzi è giusto che perdi, sapevo che Napoli in qualsiasi modo ti crea tante occasioni che ti può fare gol anche se li aspetti tutti dietro, per cui abbiamo giocato come volevo, mi dispiace per le occasioni che abbiamo create e che non siamo riusciti a concretizzare. Buonasera mister Gianluca Tavellin, l'Arena di Verona, che cosa ti tieni stretto di questa trasferta? No, sono contento della prestazione globale, di tutte le cose che abbiamo preparato, abbiamo fatto sia nella fase difensiva, sia nella fase attacco, dove mettevamo in difficoltà il Napoli sulle situazioni dove potevamo, che possono andare in difficoltà e abbiamo fatto bene. Quello che mi rammarica è non aver fatto gol quando giochi così, come dice il giornalista di prima, prendendo anche qualche rischio, cioè devi fare gol, non uno ma di più. Mi dai un giudizio sui cambi, perché hai fatto questi cambi? Non ero contento. Non ero contento? No, con i primi due no. I primi due no? Sì. Grazie. Mister Vincenzo Calabano, napolisoccer.net, le volevo chiedere, nella sua squadra c'è Jenny Tutino, se ci può dare un giudizio fin qui sul campionato del giocatore napoletano e di probabilità proprio del Napoli. No, arriva la Serie B, da un contesto completamente diverso, penso che deve maturare il più presto possibile, ha doti buone, ottime, però deve calarsi meglio nella Serie A. Buonasera mister, Carlo Alvino, Tivoluna, volevo chiederle, più recriminazioni questa sera Napoli-Verona o più recriminazioni la sera di Juventus-Verona per la prestazione della sua squadra? ovviamente. No, qua comunque era 2-0, c'è la vittoria un po' più netta di Napoli, invece là avevamo anche un pallo ultimo minuto, un po' di più, però in globale penso che prestazioni simili come modo di giocare, come occasioni create, il dispiacere di non aver accolto nulla. A posto? Grazie, buona giornata, buon lavoro. Collega del Corriere della Sera, Corriere del Mezzogiorno, Ciro Troise, dopo le due conferine stampa, brevissima quella di Juric, che aveva l'Aeo, ma è anche insomma un po' arrabbiato per l'esito finale della partita, però ti porto in considerazione su quello che invece è stata dichiarazione di Ancelotti. Partiamo dalla battuta su Ibrahimović, come la facciamo, che valutazione facciamo? Ci sta perché comunque giocare anche su quello che ha detto Ibrahimović conviene a Napoli, è uno sponsor unico da poco. Assolutamente, è vero che si è parlato di comunicato stampa, conferenza stampa, addirittura conciliazione di Totò finale, però credo che al di là di questo al momento non c'è nulla, vedremo naturalmente se questo mai dire mai diventerà qualcosa in più, al momento bisogna dirlo, è soltanto uno spot fatto da Ibrahimović a Napoli, a Napoli e a Carlo Ancelotti. Mi interessano di più secondo me invece altri due spunti interessanti perché quello di Allan fa capire che il Napoli sta insistendo sulla prima costruzione sul brasiliano, anche perché liberare Fabiani e Zierischi qualche metro più avanti è una risorsa troppo importante. Oggi Fabiani ha fatto vincere la partita perché andare nel corridoio di centro-sinistra costantemente, così nasce il primo gol e tanti sviluppi interessanti anche nel... Era di la spina nel fianco l'insediamento di Fabiani. E poi sulla giustificazione su Di Lorenzo che invece non mi convince perché a mio avviso se Mario Rino sta al meglio e si preferisce Di Lorenzo a sinistra piuttosto che Goulambo vuol dire che il problema è serio perché è una bocciatura chiara del terzino algerino. Ormai è da tempo che parliamo del... Dopo la sosta, dopo che è rimasto qui per la sosta, dopo che non gioca il nazionale da più di due anni, cioè da prima del maledetto infortunio con cui è iniziato questo calvario che purtroppo lo vede protagonista, oggi la scelta è chiara. Anche se si vuole dire che Di Lorenzo praticamente era più bloccato e magari anche nella costruzione visto che Malqui e infatti le occasioni più importanti del Verona nascono un errore in uscita di Malqui eccetto quelle sulle palle inattive parlo della tripla parata di Meret però credo anche in questo se Goulam non ha non dà neanche le garanzie di applicare determinate consegne tattiche che servono in quella partita vuol dire che c'è un problema che non bisogna nascondere bisogna secondo me analizzare perché ripeto se si vuole risparmiare Marori per San Lisburgo oggi è la sua partita effettivamente la vera sorpresa l'unica sorpresa di formazione è stata quella infatti ieri la formazione per 10-11 e noi l'abbiamo presa in pieno a proposito invece di Iunes che è stato poi il calciatore sul quale abbiamo puntato le nostre attenzioni già da qualche giorno lui dice Ancelotti inizia un po' in difficoltà poi si è ripreso ma cosa voleva secondo te Ancelotti da Iunes questa sera contro il Verona partita difficile per lui perché lui non ha le caratteristiche per coprire la fascia e il lungo tant'è vero che anche Insigne spesso lo ha sostituito in questo ruolo è un brevilinio abituato a giocare in 30 metri a saltare l'uomo ricorda il primo Mertens quando arrivò al Napoli quindi era una partita tra l'altro la prima da titolare in questa stagione farla con la squadra che giocò il 3-5-2 con Faraoni su quella corsia che è uno che attacca e che attacca spesso quindi era una prova abbastanza complicata per lui secondo me nell'applicazione tattica c'è stato anche lui nello spunto decisivo deve fare di più c'è una situazione in cui tira sul primo palo che mi sembra che se dà il pallone a Milik mette Milik in condizione di far gol cioè di tirare con tutto lo specchio della porta davanti ci sta che soffra nell'applicare il lavoro difensivo però quello che lui sa fare lo deve fare ancora di più a mio avviso però era la prima volta più quell'ospensione con la Sampdoria credo che avrà altre occasioni per farlo due segnali molto positivi stasera la conferma di Omeret che anche come stato di forma ad oggi possiamo dire che è il miglior portiere italiano superiore per rendimento anche a Donnarum che è titolare invece nazionale e soprattutto il ritorno a gol in gare ufficiali con la maglia di Napoli di Milik questa doppietta dal punto di vista mentale cosa può cambiare nel polacco Ciro è carica è tutto l'ha detto Ancelotti il secondo gol se lo stai bene mentalmente non lo fai mai perché significa andare ad anticipare l'avversario in condizioni anche acrobatiche complicate di sinistro che è poi il suo piede principale in altre occasioni il Milik sfiduciato che in Polonia infatti va a fare le interviste e dice è complicato riuscire a crescere se gioco poco quel Milik lì non lo fa il Milik che fa gol con la Polonia quel gol è benedetto per il Napoli a mio avviso apre una nuova una nuova stagione e poi naturalmente bisogna dare continuità a questo anche perché a differenza dell'anno scorso sostanzialmente c'è molta più concorrenza c'è il Diorente c'è il Lozano quindi dovrà dare continuità nelle occasioni in cui sarà schierato perché l'anno scorso praticamente la coppia Milik-Mertens soprattutto nella seconda parte della stagione e poi quella post-Liverpool è stata quasi una consuetudine cosa che naturalmente quest'anno vedremo di meno proprio perché ci sono tante bocche di fuoco da sfruttare basta pensare che c'è ancora da valorizzare un giocatore come Lozano ti faccio un'ultima domanda ancora su Milik questa doppietta può incidere anche sul discorso di rinnovo contrattuale può accelerare le cose può servire per avvicinare ancora di più le parti insomma c'è un collegamento e un nesso tra la doppietta e quello che stanno facendo i dirigenti del Napoli l'entoraggio del Polacco male non fa questo è sicuro perché va ad alimentare anche la sua forza in sede contrattuale sappiamo che ha presentato delle richieste alte al Napoli di 3 milioni e mezzo di ingaggio di base fissa una trattativa che va avanti già da qualche mese naturalmente non possiamo pensare che una doppietta possa spostare gli equilibri della trattativa però nella quotidianità di questo confronto tra il Napoli e il suo entourage sicuramente far gol o non farlo sposta sicuramente gli equilibri visto che parliamo di un attaccante e non c'è nulla da non si può nascondere il fatto che il primo metro di valutazione degli attaccanti sono i gol poi si possono fare tutti i discorsi su come costruisce il gioco così attaccanti la rincorsa a Maradona si è fermata stasera sullo palo maledetto palo parlo di Mertens ovviamente assolutamente avrà altre occasioni mi auguro mi auguro che non abbia la sindrome di Hamsi quanto tempo ci viste due mesi e mezzo mi sembra per far quel gol a Torino che gli consentì di raggiungere Diego Armando Maradona però la sabato che lo supera sì e quindi credo che naturalmente prima o poi lo farà meglio prima assolutamente perché si rischia di dire il calcio è fatto di queste cose si rischia di far entrare nella testa delle persone che ti sta andando male quando pensi che ti sta andando male poi la sorte non ti aiuta come il discorso di Milik se pensi che ti sta andando male tu su quel pallone non ti fiumdi anche se avrete chiuso la parentesi in quel gol c'è anche un grande merito di Lorenzo Insigne perché quelle punizioni lì forti e tese rappresentano mezzo gol e anche bravo Zilis che se l'è andata a prendere quel calcio di connessione attenzione si Zilis che oggi è entrato bene con la testa subito in partita si molto bene ha aiutato il Napoli a costruire di più in quella zona di campo perché di uno stava cominciando a soffrire la fatica a cui non è abituato infatti è stato un cambio importante per il Napoli ma anche chiorente quando è entrato ha avuto anche delle situazioni in cui poteva far meglio sotto porta nella gestione di certe ripartenze però il Napoli nel secondo tempo secondo noi ha fatto queste partite sono così quando le sblocchi hai fatto metà del lavoro e poi però anche sul 2-0 l'unica cosa da sottolineare qualche rischio di troppo sulle palle inattive anche se come diceva Ancelotti questi hanno un grande battitore come Veluso e di testa sono una squadra fisicamente forte che sul gioco aereo ha delle buone qualità grazie Ciro grazie a voi e allora Marco vediamo il Giordano e Giordano Marco innanzitutto mi dai un segno più per il Napoli e un segno meno per il Napoli il segno più a chi innanzitutto? i segni più sono diversi però mi piace molto soffermarmi sulla prova di Allan perché come abbiamo chiesto anche a Carlo Ancelotti è un uomo che si sta calando meravigliosamente nella parte del regista che sa fare anche la prima uscita a palla naturalmente senza perdere le grandi qualità in fase di interdizione che sono proprio del brasiliano ma tu credi che lui abbia nelle corde Ancelotti dice di sì per l'amore di me tengo alla spiegazione di Ancelotti se ci mettiamo a contrastare le spiegazioni di uno di un uomo 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 aspetto che non era prevedibile nel breve periodo Alan sta diventando comunque un uomo che sa far uscire il Napoli sono convinto che quando usciranno gli indici della velocità del possesso palla del Napoli saranno molto più alti questa sera nonostante il Verona sia squadra che ti veniva a pressare altissimo nonostante il Verona sia squadra che provava a impedirti di far girare rapidamente il pallone quindi sicuramente questo è un aspetto molto interessante se il Napoli è riuscito a trovare una chiave soprattutto in certe partite in partite come questa per avere una maggiore rapidità per innescare in maniera migliore i propri talenti offensivi allora il Napoli ha risolto molti dei suoi problemi a livello diciamo di impostazione di gioco sulla fase difensiva c'è da registrare un dato e anche questo è estremamente importante altro segno più che probabilmente non è stato ancora ben sottolineato per la prima volta forse in maniera forse definitiva abbiamo visto l'integrazione quasi perfetta di Koulibaly e Manolas questa sera è stata per la prima volta un'integrazione quasi perfetta i due riuscivano anche a uscire palla al piede il tempismo nelle uscite nelle chiusure è stato brillante e quindi questo è sicuramente un aspetto da sottolineare è chiaro che Iunes rimandiamo il giudizio non ci prendiamo un giudizio immediato a campo aperto non è proprio la partita di Iunes però rimandiamo il giudizio su Iunes ma qui ovviamente la nota più stonata nella serata della vittoria contro il Verona le uscite non sono state positive non è mai riuscito a chiudere con continuità non ha trovato il sincronismo nella catena con Cagliacone né tantomeno riusciva a ottenere il raddoppio in maniera precisa con Allan insomma un Marquis che in vista di Salisburgo potrebbe essere uno di quelli che fa rotazione con Di Lorenzo che torna a destra e Mario Rui che gioca a sinistra altro aspetto che abbiamo sottolineato anche a Carlo Ancelotti che francamente ha destato un minimo di perplessità è quello di legato alle palle inattive anche Salisburgo è formazione molto fisica molto tosta che hanno dei piedi buoni è chiaro che il Napoli sotto questo aspetto deve migliorare l'ultima domanda te la faccio su Arek Milik noi spesso a Teboluna abbiamo analizzato le partite di Milik anche con rammarico perché era un giocatore che ti dava l'impressione di avere 90 e di non fare 91 è un giocatore di grande qualità a livello mentale la doppietta di stasera cosa si può significare per il Polaro? non lo so perché resta tra virgolette un punto interrogativo in che senso? ci prendiamo i due gol contro il Verona che sono assolutamente positivi e diventano fondamentali per la vittoria del Napoli ci prendiamo una performance vista da Milik fatta da Milik tornava giostrava con i compagni riusciva a dialogare apriva il campo insomma una performance di altissimo profilo se non da migliore in campo quasi da parte di Milik è chiaro che adesso ci aspettiamo i gol di Milik nelle notte decisive ci aspettiamo per esempio un Milik che possa decidere un match di Champions di grande portata come non è avvenuto lo scorso anno a un field magari magari a un field ma a me basterebbe contro il Salisburgo mi accontenterei di un Milik decisivo contro il Salisburgo tra l'altro lui fece quello anche l'anno scorso però chiaramente in un contesto diverso mi accontenterei di un Milik decisivo in una grande notte di campionato allora lì avremmo il fiorire definitivo di un campione che in potenza è sempre stato tale e che all'atto pratico ha dimostrato di essere importantissimo in partite contro avversari di medio basso livello e mai determinante in partite di altissimo profilo grazie Marco grazie a voi grazie a voi bene grazie a voi